Ha preso il via oggi nei quartieri Politeama e Massimo a Palermo il secondo step di Palermo differenze a due. Stanotte sono già cominciate le attività per rimuovere i 300 cassonetti ricadenti nelle strade interessate dall'ordinanza numero 54 del 29 marzo emessa dal sindaco Leoluca Orlando. L'area ricadente nel sistema porta a porta sarà quella delimitata dalle vie Urispa, piazza Busacca, via Malaspina, piazza Virgilio, via Dante, piazza Castelnuovo, piazza Ruggero VII, via Merico Amari, via Roma, via Cavour, piazza Verdi, via Volturno, piazza Vittorio Emanuele Orlando, Corso Camillo, Finocchiaro Aprile, piazza Sacro Cuore, piazza Principe di Camporreale e infine via Serra di Falco. Da questo pomeriggio inoltre si partirà con le utenze commerciali che dovranno esporre dalle 13 alle 14 l'organico, esclusivamente utenza a produzione specifica come bar, ristoranti e frutti vendoli, carta cartone e vetro. La sera sarà la volta delle utenze domestiche che dovranno esporre dalle 20 alle 22 esclusivamente carta e cartone e frazione residuale non riciclabile. Per visionare nel dettaglio orari e frazioni giornaliere ed esporre basta visitare il sito www.rapspa.it. Chi volesse invece maggiori informazioni o non avesse ancora ricevuto i kit familiari o condominali può rivolgersi direttamente all'ufficio di start-up e coordinamento Palermo Ambiente S.P.A. di via Resuttana 360 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Come da ordinanza si ricorda che il conferimento dei rifiuti urbani con la relativa esposizione al di fuori delle portinerie va effettuato nel rispetto del seguente calendario. Per tutte le utenze domestiche e non domestiche fabbricate in genere compresi terreni non adibiti a negozio esclusivamente e tassativamente dalle ore 20 alle ore 22 nei giorni di lunedì, giovedì e sabato deve essere effettuato il conferimento degli scarti alimentari e simili, cioè l'umido. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi biodegradabili all'interno di appositi secchielli anti-randagismo o all'interno di un bidone carrellato con attacco a pettine dove previsto. Il martedì deve essere effettuato il conferimento di carta, cartone e cartoncino. Deve essere effettuato in sacchi di carta o di altro contenitore costituito da materiale cellulosico o all'interno di un bidone carrellato con attacco a pettine anche in questo caso dove previsto. Il mercoledì deve essere effettuato il conferimento di plastica, acciaio e alluminio. Il conferimento va effettuato all'interno di sacchi in LDPE semi-trasparente per consentire il controllo del contenuto. Nei giorni di martedì e venerdì deve essere effettuato il conferimento della frazione residuale non riciclabile. Il conferimento deve essere effettuato in sacchi generici all'interno di un apposito secchiello anti-randagismo o anche in questo caso all'interno di un bidone carrellato con attacco a pettine dove previsto. Il sabato deve essere effettuato il conferimento del vetro all'interno di un apposito secchiello anti-randagismo anche in questo caso un bidone carrellato con attacco a pettine. Tutti i giorni inoltre è consentito conferire farmaci e pile negli appositi contenitori dedicati presso le farmacie e i rivenditori di pile. Per quanto concerne infine i rifiuti ingombranti possono essere conferiti presso le postazioni mobili avviate dalla RAP SPA tutti i giorni feriali e con i calendari orari comunicati dalla stessa azienda.